Bella ragazzi, prima del video mi raccomando, non dimenticate di fare un salto nel primo link in descrizione, quello di Instant Gaming, dove troverete, tra le altre cose, tutti i bundle di Fortnite a prezzi ridicoli. Mi raccomando, Instant Gaming! Can you hear the scream in the ocean? Wey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xiodair e ragazzi, mamma mia, il video di oggi è veramente super super interessante ragazzi, lo avrete già letto dal titolo. Oggi parleremo della skin gratis e non solo. C'è un modo per ottenere una skin gratis e altri ricchi premi direttamente da Epic Games. Quindi mi raccomando, non perdetevelo. Parleremo anche delle grandi modifiche che fanno e che faranno al falò ragazzi, il nostro falò confortevole e ovviamente non mancheranno dei leaks se avremo tempo. Interessantissimi che potranno stuzzicare un pochettino la vostra curiosità. Vi ricordo però sempre ragazzi di iscrivervi in tantissimi al canale, di lasciare un bel like, me la ero dimenticata di là, e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento sia sulle live che sui video. Ma prima ragazzi, eh lo sapete, prima la domanda, so che siete lì che l'aspettate tipo la ruota della fortuna ragazzi, la domanda di oggi, i vostri commenti qui sotto ci tengo che mi commentate, lo sapete, è semplicissima. Come ti sembra il nuovo pupazzo di neve? Il pupazzo subdolo ragazzi? Ditemi un po', a me personalmente piace. A me piace anche perché se ti trovi in una brutta situazione e hai il pupazzo, sei fermo. Tra l'altro mi piace anche il fatto che ti dà shield. Tanta tanta roba ragazzi, questo pupazzo secondo me potrebbe essere valutato in maniera assolutamente positiva, quindi i vostri commenti qui sotto. Ma quindi ragazzi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare del primo argomento che riguarda la neve, so che volete sapere della skin gratis, datemi un secondo, riguarda la neve ragazzi, allora questa è la mappa, un pezzo, una porzione di mappa di Fortnite, la parte alta dove c'è il nuovo quartiere, beh ragazzi, la parte segnata e cerchiata in azzurro è molto molto interessante, perché se la guardiamo in questa immagine, dove c'è uno zoom proprio con il personaggio a bordo mappa, notiamo i primi fili d'erba ragazzi, questo vuol dire che sembrerebbe la neve stia molto lentamente, cominciando a sciogliersi. è un'immagine molto interessante, perché ci fa capire che c'è un continuo comunque, che ovviamente non sarà per sempre la mappa innevata, anche perché faccio prima a spararmi, piuttosto che stare a giocare tutta la mappa innevata, quindi ragazzi, ovviamente tanta roba anche per l'evento tempesta, che continua, intanto qua vi facevo vedere con la freccia, dove dovete guardare l'evento tempesta, che continua sempre a regalarci grandi sorprese, ma andiamo avanti e parliamo della roba bella, parliamo ragazzi di sbronk, allora, qua c'è un po' da capire ragazzi, quindi mettetevi comodi, alzate il volume, perché c'ho due o tre cose da dirvi serissime, allora, questa è la skin che conosciamo tutti, la skin della Nvidia, dell'invidia delle schede grafiche, la 1060, la 1080, forse anche la 1070, non ricordo, questa skin in realtà è un set, che ha anche piccone, backpack, deltaplano, e 2000 V-Bucks, beh ragazzi, da qualche giorno, e con scadenza, al 28 gennaio, quindi tra poco ragazzi, Epic Games ha fatto una lotteria, e farà per voi una lotteria, questo cosa vuol dire, che ci sono dei premi, allora, i premi ragazzi, sono 5, ultimo premio, 2000 V-Bucks, GG, quart'ultimo premio, il deltaplano, solo il deltaplano, di questa skin, terzo ultimo premio, il piccone, secondo premio, la skin, con il backpack, e primo premio, una scheda grafica, Nvidia GTX, 1060, da 6 giga ragazzi, una bella scheda grafica, come si fa ovviamente, a partecipare, a questo evento, perché, dovreste parteciparvi, perché ragazzi, oltre a regalarvi, queste cose, potrete finire, nella pagina, di Fortnite, quella su Twitter, allora, questo è il tag, che vi permette, di partecipare, all'estrazione, che cosa dovete fare, dovete, o registrare, un piccolo, spezzone video, o basta anche, semplicemente, un'immagine, dove utilizzate, il, pupazzo, subdolo, allora, ovviamente, deve essere tutto, ci sono tantissime regole ragazzi, vi lascio in descrizione, il link esatto, in modo che vi andate a leggere, tutto il regolamento, perché, è abbastanza lungo, diciamo che, in due parole, vi dicono, di non fare roba strana, deve essere una cosa divertente, comunque, deve essere per un vasto pubblico, insomma, ragazzi, sfogate la vostra fantasia, cercate una bella immagine, o un piccolo spezzone di video, dove utilizzate il pupazzo, pubblicatelo, sulla vostra pagina di Twitter, con il tag, Fortnite, Nvidia, l'estrazione, sarà fatta, il 28 gennaio, se non ricordo male, periodo della lotteria, criteri di candidatura, è una spatafialla, per l'Italia, ragazzi, verrà estratto una persona, quindi, non è che, su tutti quelli che partecipano, ogni stato, ha i suoi vincitori, quindi, ragazzi, mi raccomando, non dimenticatevi, di partecipare, perché, vale davvero la pena, provare a vincere, almeno uno dei cinque premi, ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di un'altra cosa, interessantissima, che sono, appunto, le modifiche, che verranno fatte, al falò, ragazzi, una roba interessantissima, il falò, confortevole, che è davvero, un compagno, utilissimo, soprattutto, da quando, nell'ultimo update, hanno aumentato, il drop rate, quindi, è molto più probabile, trovarlo, sia nei loot, che nei drop, allora, che cosa succede, questo ragazzi, è un'immagine, di un commento, fatto su twitter, da un dipendente, di epic games, che risponde, alla domanda, di un utente, dicendo, grazie per la sua, per la vostra idea, noi stiamo, preparando, delle modifiche, che arriveranno, presto, sul falò, che cosa vuol dire, che tra poco, potremo utilizzare, i campfire, che ci sono, già nella mappa, non so se avete presente, me ne viene in mente uno, quello vicino a rifugio ritirato, sapete che ci sono due tende, con un falò in mezzo, ma ce ne sono tantissimi, sparsi nella mappa, ecco, quei campfire, con la vostra legna, potranno diventare, veri e propri falò, che rimarranno accesi, per 25 secondi, e che ovviamente, avranno la stessa, identica funzione, del falò, quindi daranno, a tutti, i componenti della squadra, e ovviamente, a noi stessi, anche la salute, quindi ragazzi, tanta roba, mi piace tantissimo, questo update, che ci sarà sui falò, mi piace tantissimo, la possibilità, di interagire, con la mappa, anche verso, al nostro personaggio, come, mi aspettavo, happy games, si dimostra sempre, al passo, con le novità, e fa davvero, delle cose, molto, molto interessanti, che, migliorano, sempre di più, il gameplay, apprezzo davvero, tanto, questo update, se avete voglia, fatemi sapere, qua sotto, cosa ne pensate, voi, del falò, andiamo avanti ragazzi, e parliamo, invece, in chiusura, della skin, volley girl, ne avevamo già vista, qualche giorno fa, ecco ragazzi, sappiamo, ufficialmente, che arriverà, questo weekend, quindi potrebbe essere, la skin, nuova, che viene proposta, domenica, se non ricordo male, o arriva venerdì, o arriva domenica, è difficile, che il sabato, mettono delle skin, nuove, lo sappiamo ragazzi, per un motivo, molto semplice, c'è una streamer, che non è italiana, ovviamente, che già, ha la skin, gli è stata data, ovviamente, direttamente, da epic games, è l'unica persona, al mondo, che già, ha questa skin, e che ha, twittato, appunto, il giorno, in cui, verrà rilasciata, pubblicamente, che come vi dicevo, appunto, è in questo weekend, ero convinto, che la mazza, che la racchetta, fosse il piccone, invece, è il backpack, quindi, questa che state vedendo, ragazzi, sarà in game, la skin, della tennista, ma ragazzi, che dire, siamo arrivati, anche per oggi, alla fine del video, tanta tanta roba, per questa lotteria, e strabello, anche, il nuovo, campfire, vi ringrazio davvero, tantissimo, per averlo guardato, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi, in tantissimi al canale, noi, ci vediamo presto, ciao! grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti,